Every time we say goodbye, I die a little... Ti odio. Ma insomma, non canti più, tu? No, 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 canto. Ho un gruppo jazz. Dimmi per te. Il nome non funziona, ma il resto mi piace. È bellissimo, Franco, ma questa non è mica la mia storia. La gente vuole vedere donne che soffrono, quest'annuale mia. No, ferma, ferma! Non funziona, ma non lo sentire, non si riesce a cantare. C'è un visetto carino, eh? Ma c'è il caratteraggio. Questa è l'unica cosa sulla quale sono sempre stata d'accordo. E il tuo passato, certo, non ti aiutano. Che c'entra il mio passato adesso? Mi volete dire che non partecipo ai concorsi? I miei dischi non vendono perché qualcuno ha messo in giro la voce che io porti sfortuna. Perché non ripete con me? Mia Martini! Va bene. Mia Martini! Mia Martini! Mia Martini! Non ci vado in Canada. Tu sei matta, vero? Nessuno è mai libero, veramente. Decido io come vivere la mia vita. Se esci da quella porta, non disturbarti a tornare indietro. Se non canto non vivo. Sai la gente strana… Ciao ragazzi, oggi vi segnalo tre film biografici che non potete non aver visto. Malcolm X di Spike Lee, con un grande Denzel Washington, poi c'è La caduta, Gli ultimi giorni di Hitler, con l'inarrivabile Bruno Gantz, e poi vi segnalo The Elephant Man, splendido film di David Lynch, ispirato alla difficile vita di John Merrick. Fatemi sapere se li avete visti tutti. Vi ricordo che vi aspettiamo anche su Facebook Messenger per giocare col Cinequiz, nuove domande ogni settimana e tanti premi da vincere, tra cui biglietti gratis per il cinema. E poi se vi piace la maglietta che sto indossando, in descrizione trovate il link per comprarla. Ciao!